Salve a tutti ragazzi, siamo qui in un nuovo gameplay di Wolf Mercy Pronto in questo gioco che si chiama Traffic Rider In cui dobbiamo impersonare un ciclista Sperichato Un ciclista Mi raccomando, non provatelo a casa Un ciclista Vabbè, era un ciclista Un motociclista Era tutto in casa la moto, si vede, quindi è tutto in casa Mi raccomando, non provatelo a casa, ma solo nelle autostrade Solo nelle autostrade Andate veloci Il commentario è fatto da Jimmy senza la J Gravissimi, adesso impennate così da fare più punti anche nella vita reale Più punti fate, più andate in paradiso Quindi mi raccomando Compratelo Compratelo, è gratis Comprate anche la guida Qui, presente The Lyle guida The Lyle guida to this gioco The real scoppato main Madre Madre of God Chi vuos un cacciatore Oddio, che cosa ho fatto? Oddio Ma non gira Questa è la parte che non dovete fare Non so, però se cliccate continuo potete farlo Se avete le monetine Come ricordiamo, le monete di bronzo venivano inserite al posto degli occhi ai cadaveri greci No, al posto sopra Sì, al posto Perché è nelle cavite del cranio? Comunque Ma comunque Per farli raggiungere l'ade Quando voi Quando voi andate Quando voi andate in moto Mi raccomando di portarvi Una, quattro monetine Per poter continuare Comunque Se non le avete Fa niente Se il gameplay vi è piaciuto Lasciate un mi piace Commentate Condividete Il video si è concluso Da Lyle è tutto E da Jamie Ciao 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 Ciao